Domani, notte 18 gennaio 2022, ci sarà il passaggio ravvicinato di un asteroide a più di un chilometro di diametro. Andrà a salutare il nostro pianeta Terra, sfreccerà quasi 20 km al secondo. L'asteroide in questione viene chiamato 7482-1994-PC1. Si verificherà ad una distanza di piena sicurezza, quindi stare tranquilli, 2 milioni di chilometri circa la distanza tra noi e lui, che corrispondono a circa 5 volte la distanza tra il pianeta Terra e la Luna, sarà visibile nel cielo con dei piccoli telescopi, comunque abbastanza equipaggiati. Nel 1994 fu scoperto in Australia questo asteroide, che venne tracciato con un dettaglio abbastanza importante. La traiettoria intorno al Sole è stata conosciuta piuttosto bene, tanto da sapere già che domani passerà molto vicino, meglio, all'indontananza al nostro pianeta. È un asteroide di tipo roccioso, il diametro supera i 1000 metri, 2 volte e mezzo l'ampere state building. Il punto più vicino è fissato intorno alle ore 22.51 di sera, va bene? Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Ciao a tutti, l'italiano e il narratore italiano.